buona giornata tutti noi siamo diversi ma forse noi pretendiamo che l'altro sia uguale a me per il modo di pensare per il modo di fare per il modo con cui deve fare certe cose pensiamo nelle nostre case pensiamo nelle nostre comunità là dove abitiamo l'altro non è un prolungamento di te è diverso e forse la fatica ma anche la gioia di accettare questa diversità unisce da uno sguardo diverso compie una vita differente allora che questa diversità dica la bellezza di un incontro ma dica anche la gioia di un costruire insieme il signore ti benedica ma soprattutto ti dia la forza per compiere scelte per dire guarda come è diversa la vita imprevedibile ma anche bella per il modo di viverla buona giornata